Il mio progetto ha il titolo Docker Security Playground, è una piattaforma microservizi per lo sviluppo di scenari virtuali di attacco su infrastrutture di rete virtualizzate per aiutare gli studenti sostanzialmente nella formazione in tematiche di sicurezza di rete. La mia borsa di studio si occupa di portare le tecnologie e gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale all'interno dei campi coltivati da fornire agli agricoltori in modo da controllare in maniera più efficace e più precisa la qualità dei prodotti coltivati e riuscire a produrre di più utilizzando meno risorse. Il titolo della mia borsa è DIDS, a Deep Learning Intrusion Detection System. Si tratta di un Intrusion Detection orientato quindi alla diagnostica di rete per la predizione di anomalie non note. Si spera di poter fare detection di zero day e quindi di minacce non note utilizzando tecniche di machine learning, in particolare facendo riferimento a tecniche di machine learning non supervisionato. Il mio progetto è il monitoraggio della morte cardiaca improvvisa a sport. In particolare durante questo anno il mio obiettivo sarà quello di creare un'infrastruttura in cloud per il monitoraggio degli atleti. Nella mia borsa sto cercando di creare un software che al momento non esiste, che è un software dedicato all'interazione su spartito musicale durante distanza learning, durante situazioni di network music performance, performance musicale sul network. Quindi avere un dispositivo digitale, un tablet per esempio, che il maestro a distanza può girare la pagina e gira la pagina anche a me. Grazie per la visione!